non dobbiamo perderci dal dall'essere rosso nero in questo blocco perché andiamo a parlare di milan e lo facciamo con due gratuitissimi ospiti c'è andrea saroni ciao andrea ciao 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 ben trovati e c'è anche alessandro jacobone ciao alessandro ben ritrovati a voi un saluto anche ad andrea ciao alessandro amma mia ragazzi il vessillo rosso nero come sventola in questo blocco allora tonali dei in quel di milano ragazzo già fatto un bel pollicione un ok sono pronto per questa avventura concluse le visite mediche entro oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità parto subito col domandone inizio da andrea saroni e poi vado alessandro jacobone andrea per il milan cosa significa l'arrivo di sandor tonali guarda a parte che io voglio essere ottimista e quindi certo che si tratti di una importante importantissima operazione tecnica per il presente e per il futuro insomma che le qualità di questo ragazzo si conoscono e quindi pensare che possa essere un acquisto un inserimento nell'organico del milan per subito avere dei risultati pratici sul campo ecco io sono molto ottimista su questo però ti dico che francamente rappresenta da subito è un segnale importantissimo credo per tutto il calcio e poi figurati per per i tifosi milanisti per l'ambiente milanista che il milan è tornato a essere competitivo o comunque avere un peso anche sul mercato perché posso andare a memoria posso sbagliarmi ma erano ormai diversi anni o è addirittura raddoppiando le le sessioni di mercato che sono due all'anno quindi tanti tanti mercati in cui il milan non prendeva un giocatore che era appetito da varie big italiane e straniere cioè insomma uno di quei calciatori meno male stavano sulle prime pagine per quanto riguarda il futuro le trattative insomma uno dei grandi obiettivi che potevano esserci per tutti sul mercato il fatto che il milan l'abbia preso e che questa operazione l'abbia sostanzialmente condotta paolo maldini è un segnale importantissimo credo per tutto il milan per tutto l'ambiente vuol dire che a dispetto di possibilità che non sono straordinarie e continueranno credo a non essere straordinarie ancora per un bel po' di tempo o perlomeno fino a che i bilanci saranno assestati o a che o addirittura arriverà una nuova proprietà con delle disponibilità ampie il fatto che il milan comunque in questa situazione ancora un po' di stallo chiamiamola così dal punto di vista economico abbia chiuso un'operazione del genere per me è veramente un piccolissimo scudetto una piccolissima medaglia non finisce sugli albi d'oro però ecco credo che sia un po' più importante di una normale o anche brillante operazione di mercato credo che sia veramente un auspicio per quello che può essere già al presente del milan a livello anche societario vado alessandro jacobone il significato secondo lui del colpo donali per il milan concordo con andrea al cento per cento ha un valore che che va al di là della della qualità tecnica del giocatore che è sottoscritta da da diversi tecnici allenatori ehm gente che mastica calcio tutti i giorni non c'è nessuno che che vada contro corrente né in tema di qualità tecniche né in maturità e di momento esatto in cui arriva al grande passo che lo faccia poi con la sua maglia del cuore da quel tocco di romanticismo purtroppo sempre più raro nel mondo del calcio ma concordo appunto con con andrea circa la intelligenza con la quale è stata gestita la l'operazione perché è vero che l'inter ha tolto le mani dal giocatore gioco forza per incapacità di poter mordere in questo momento ma al milan si è fatto trovare pronto si è fatto trovare pronto con una intelligenza di gestione che ha cancellato in gran parte quelli che erano i dubbi che allevano su maldini non pronto a ricoprire un ruolo che non aveva mai fatto e che eh solo nome eh solo essere bandiera non giustificava invece invece si è dimostrato intelligente efficace silenzioso abbastanza per poter chiudere in pochi in poche settimane e eh portare a casa un prospetto importante per il milan per la nazionale ma ancora di più per quello che è il mondo milan in generale perché l'entusiasmo che ha riportato questo tipo di operazione si è anche riflessa nei media che ho visto ho notato guardare il milan con più rispetto eh un rispetto indotto da proprio dal peso della della dell'operazione che che Maldini ha portato eh a casa quindi un bel passo e una prova che il la conferma di Pioli e la conferma di di Maldini non fossero la strada più corta bensì eh dando dando diciamo foraggiando quello che è il mercato e dando la libertà di manovra allo stesso eh dirigente rosso nero e gli os dimostra che sul milan è presente sul milan è concentrato perché lo venda domani è tutto un discorso però ad oggi quello che la tiposeria chiedeva era eh per seguire sì la linea Pioli ma anche dargli sostanza con un mercato all'altezza allora stanno arrivando tantissimi messaggi che vado subito a rigirarvi però volevo sapere un attimo la vostra considerazione secondo voi Tonali entrerà in punta di piedi nei meccanismi di Pioli oppure partirà subito titolare? Parto da Andrea Saronni poi vado anche da Alessandria Copone Andrea? Ma sai eh teoricamente eh potrei la risposta potrebbe essere paradossalmente no a quella parte titolare perché se tu devi partire dall'impianto che che ha fatto così bene nell'ultima parte chiamiamola quella post covid del campionato con questa mediana due formata da Ben Nasser e che sì che si sono integrati benissimo che si sono alzati anche nel rendimento sono stati molto costanti uno direbbe no evidentemente parte in punta di piedi ed è un'alternativa questo per rispondere alla domanda però ti metto subito in campo due fattori il primo vi invito a pensare in calendario che già nasce molto molto compresso e speriamo ma veramente speriamo che si possa svolgere così come è stato previsto non dimentichiamo che purtroppo ancora abbiamo una minaccia covid abbiamo una minaccia di contagi magari non arriveremo anzi sicuramente non arriveremo alla drammatica situazione della della primavera scorsa ma magari potrebbero esserci delle positività potrebbero esserci dei rinvi delle situazioni che vanno ancora di più a complicare il calendario ecco comunque tenete presente che in questo calendario se il milan e mi limito a obiettivi spero raggiungibili va a fare i gironi di europa league e va alle semifinali di coppa italia stiamo già parlando di un calendario che per il milan è fatto di 51 partite quindi già questa potrebbe essere una risposta poi c'è anche l'aspetto tattico perché io voglio pensare che con la squadra ora bene in mano con un gruppo di giocatori che mi sembra consolidato perché il milan lo state vedendo cioè non è che sta facendo rivoluzioni ci sarà qualche uscita probabilmente verso la fine del mercato ma il gruppo di giocatori più tonali scusate più braim diaz ed eventualmente vedremo un altro centrocampista si parla di baccaio co oppure di un difensore centrale comunque il gruppo è questo e con un gruppo con cui è già in sintonia credo che pioli lavorerà anche a dei piani b cioè non escludo in certe partite in determinate situazioni di vedere per esempio il milan con un centrocampo a tre tonali per sua stessa ammissione detto che assolutamente ha fatto bene anche il compito di di mediano centrale davanti alla difesa ma può anche agire da mezzala per cui io non ti escludo che in determinate partite si possa vedere un palleggiatore davanti alla difesa che può essere ben nasser che può essere lo stesso tonali e due mezzali quindi ben nasser è che sì oppure vedremo quale sarà il nuovo acquisto con che sì quindi secondo me ci sarà anche una una seconda faccia del milan che prevede l'impiego di più mediani e in questo senso quindi tonali troverà spazio come alessandro jacopone ti stuzzico con l'albero di natale con i tre centrocampisti davanti alla difesa i due tre quartisti alle spalle di libera mi conosci o mi leggi nel pensiero seguendo le parole di di andrea che sulle quali concordo vedo anche delle delle opportunità di di riproporre anche soluzioni tattiche di diversa natura anche perché poi gli avversari a volte impongono non è che si può partire con uno stampino e andare avanti o hai una prepotenza di qualità che domina a prescindere oppure a volte le gare vanno eh modificate in corso e le i gli schemi altrettanto detto questo la qualità di palleggio di ben a terra la qualità di palleggio eh mista intensità di di tonali e la i polmoni eh inesauribili di che sì mi ricordano con le giuste proporzioni pierlo sidorf e gattuso con gattuso che faceva a legna per i due e gli altri che si divertivano a a servire eh di volta in volta eh gli attaccanti ovviamente eh sembra blasfemia totale adesso citare i tre dell'albero di Natale ma l'idea l'idea è quella l'idea di alzare il livello di qualità di un centrocampo i campionati le partite si vincono a centrocampo la qualità è importante eh a questa qualità mettono anche intensità perché sia Ben a terra che che tonali sono giocatori che eh secondo i dati ovda hanno eh un'intensità durante la gara eh a coefficiente alto fa parte del calcio moderno il Milan si sta adattando e questo non può essere che cosa buona e giusta. Guarda però se di blasfemia calcistica io durante la passata stagione descrivevo il modo che aveva Bernardeschi di interpretare il ruolo di stare ad un attacco come quello che utilizzava lui sfigo quindi è proprio blasfemia proprio diciamo su livelli elevatissimi perciò vi capisco bene potete anche insultarmi però io parlavo di interpretazione del ruolo eh non di pari pari livello tecnico insomma giusto per per non sembrare matto ma non ho affatto io sono istrionico sono istrionico i messaggi i messaggi allora ma con un gol all'attivo in 38 gare quella qualche assist con la media del 6 stiracchiato non mi sembra eh il colpo che sposti gli equilibri in campionato ci scrive Vittorio Andrea giocava nel Brescia al primo campionato di Serie A scusate cioè voglio dire e poi credo che eh puoi metterlo anche eh nel nella più grande e forte squadra del mondo tanto per cominciare se fai il conto sui gol non credo che il gol sia il mestiere di Tonali detto che quando eh l'ho visto concludere in porta al di là delle delle segnature o non delle segnature mi sembrava anche uno portato alla conclusione ma bene o male ha fatto un altro ruolo in una squadra tra l'altro aggiungo che con tutto rispetto chiaramente era un po' una tra le più deboli dell'otto della Serie A e quindi insomma magari molto spesso eh avrà dovuto anche concentrarsi più su compiti eh di copertura rispetto che andare ad appoggiare le sue punte cioè non credo che sia quello la la media voto guardate non non aprite questo tema con me perché francamente sono diventa ho fatto centinaia e centinaia di di pagelle nella mia vita eh sbagliandone per carità di dio chissà chissà quante e quindi credo che è un giudizio sempre e comunque soggettivo quando quando si riesce a vedere e giudicare bene la partita per cui non ne farei un dogma delle pagelle e per quanto riguarda invece eh l'argomento gol ecco credo e spero che insomma anche 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 al Milan se farà qualche gol in più siamo tutti felici ma ripeto non credo che il Milan abbia preso Tonali per avere un contributo di gol in più da dal centrocampo ci sono le punte ci sono i trequartisti perché non dimentichiamo un altro giocatore che è stato grande protagonista della della grande ripresa del Milan della 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 scorsa estate che è Cialanoglu e quindi voglio dire eh voglio pensare che eh ai gol ci penseranno gli attaccanti ci penserà Cialanoglu speriamo di vedere tanto e di vedere bene questo Obrahim Diaz e per cui insomma credo che non non dobbiamo preoccuparci di questo. C'è un altro messaggio questo lo giro Alessandro Iacobone non c'è un po' di esagerazione su Tonali se fa la fine di Cagliardini che facciamo ma andiamo a casa Maldini piano con le aspettative Alessandro che esagerazione io non capisco non capisco l'esigenza di trovare the dark side of the moon in questa trattativa io eh Vittorio che che accoglie risposta Andrea eh invito solo ad andare mi spero presto eh spero che si possa presto andare allo stadio e che i tifosi possano andare allo stadio a vedere giocare Tonali perché vederlo allo stadio è diverso che vederlo in televisione dove gioco forza la telecamera è obbligata a seguire il pallone per capire lo spessore di un giocatore che con l'età può dare veramente tanto e crescere indipendentemente dagli assist e dai gol ehm non lo so io io credo che un giocatore come Tonali ripeto eh ho interrogato decine decine di allenatori eh preparatori gente che dirigenti e tutti hanno minimo comune denominatore il fatto del dire che Tonali è un giocatore di spessore dal grande futuro e sicuramente il futuro della nazionale lo era prima di vestire eh la maglia del Milan mi aspetto che rimanga così nell'opinione dei tifosi dei media e della tifosaria proprio rossonera che eh non ha bisogno di di porsi degli interrogativi e delle previsioni pessimistiche eh se guarda il suo recente passato è l'alba è l'alba è un raggio di sole godiamocelo e non pensiamo al buio che abbiamo passato negli anni scorsi giocatori come Tonali non ne abbiamo visti abbiamo visto Matti Fernandez abbiamo visto giocatori abbiamo visto Sosa abbiamo visto parametri zero dall'elefantiaca eh età cioè non scherziamo abbiamo un un giocatore che nel suo acquisto rappresenta la programmazione che tanto abbiamo eh richiesto e che non abbiamo visto negli ultimi anni non facciamoci la testa ancora prima di di vederlo in campo diamogli tempo e non mettiamoli pressione nonostante i risulti abbia eh physics to roll per gestire anche queste pressioni da maglia del Milan e da San Siro. Intanto incalzano su Tonali non ha visto palla con Pulgare e Castrovilli diciamo pure che sì va bene non l'avrà vista lui ma non l'hanno vista neanche i suoi pessimi compagni di reparto lasciatemelo dire perché veramente bisogna valutare un giocatore anche in base al contesto in cui gioca quindi da questo punto di vista penso siamo siamo tutti d'accordo. Io chiuderei con Andrea Saronni e Alessandro Iacoboni sottoponendo la stessa domanda entrambi parto da Andrea e parto da Alessandro in molti nelle griglie per campionato che abbiamo chiesto di costruire i nostri ospiti qui su TMV Radio hanno dato il Milan saldamente tra le prime quattro che da parte di un paio di ospiti tutti vedono il Milan al quarto posto in classifica e queste griglie sono arrivate dopo l'avvicinamento forte del Milan per Tonali segno che questo è un colpo sicuramente che dà anche un'immagine diversa del Milan nell'immaginario collettivo un'immagine che non si aveva da molto tempo un Milan così in alto in classifica è possibile già da quest'anno Andrea Saronni? Eh magari se devo risponderti con l'animo del tifoso ti dico magari se ti rispondo con l'animo è l'obiettivo però beh certo certo e tra l'altro francamente ripeto a parte che dobbiamo fare dobbiamo sempre ricordare una cosa lo ricordo per primo a me stesso che quello che abbiamo visto nelle ultime 12 giornate dell'anno scorso è stato un campionato particolare una situazione particolare nella quale hanno agito dei fattori totalmente inediti e quindi non si può e non si deve escludere che paradossalmente il Milan nella magnifica parte di campionato che ha fatto in quel frangente possa essere stato anche favorito da questi fattori alcuni di questi ci saranno ancora purtroppo come gli stadi chiusi l'assenza del pubblico e appunto e poi ci sarà anche un calendario molto serrato paradossalmente nella scorsa estate il Milan sembra tra le squadre è stato tra le squadre che sicuramente ha azzeccato la preparazione fisica per affrontare questo tipo di sforzo per cui questi fattori io non tenderei a escluderli sapendo che possono essere comunque molto 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 mobili detto questo se andiamo a ragionamento c'è un pro che porta a pensare che il Milan possa davvero entrare in zona champions che è appunto un gioco e una formula finalmente trovata io poi ci metto mi spiace io questa questa cosa la dirò sempre il fattore Zlatan Ibrahimovic perché se non si fosse non fosse stato rinnovato Ibrahimovic io sarei molto più pessimista e cauto sull'immediato futuro del Milan mentre invece il ticket Ibrahimovic in campo e Pioli in panchina e Ibrahimovic anche come uomo presente nel campo negli spogliatoi negli allenamenti tutti i giorni mi fa pensare che questo forte equilibrio che è stato trovato possa continuare quindi questi sono fattori positivi e che fanno pensare bene l'acquisto di Tonali se arriva un altro centrocampista di livello spero di non essere tacciato di partigianeria dicendo che il Milan potrebbe avere uno dei centrocampi più forti inteso come reparto in generale come organico della Serie A perché se arrivasse un giocatore come Baccaio Pocco o un altro di uguale valore insieme a Ben Nasser che si e Tonali francamente la mediana del Milan per qualità e anche possibilità di alternare uomini di questo valore avrebbe pochi uguali il contro tra virgolette è che secondo me rimane fortissima una concorrenza perché adesso vedremo l'andamento della campagna qui si vedremo anche chiaramente il livello degli organici finali che poi prenderanno il via del campionato comunque quelli che ci saranno a fine mercato ma come fai a tagliare fuori di netto la Lazio che ha fatto benissimo l'anno scorso e benissimo in questi anni chi ci dice che l'Atalanta non si confermerà ancora una volta e Roma e Napoli dove li mettiamo Juve e Inter non te li cito nemmeno ovviamente per cui ecco in questo senso secondo me rimane una concorrenza molto molto alta per me per me è già una buonissima quasi straordinaria notizia che senza fare dei pronostici avventati o dare troppo retta alle ragioni del cuore si possa razionalmente mettere il Milan in quel lotto di squadre proprio per quello che vedi e quello è quello che pensi possa succedere per il resto si vedrà Alessandro Iacobone ultimi 30 secondi per te sì velocissimo al netto delle incognite relativa al post down che ha sottolineato Andrea io ho visto un Milan che si è divertito nel giocare le ultime 12 gare un Milan importante un Milan attento mentalmente non solo perché ha vinto degli scontri diretti che cosa che non accadeva da tempo ma ha mantenuto la stessa concentrazione anche in partite di cartello dal tono minore cosa che eh dubitavo perché generalmente quando si si vincono poi degli scontri diretti le partite dopo le squadre non solide mentalmente crollano proprio quando non devono farlo il Milan ha avuto un trend importante un trend che ha dato fiducia ha permesso alla società e alla proprietà di 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 scommettere su su questa su questa questo parterre dirigenziale e tecnico in panchina con un'inversione a U eh quasi sospetta ma sta di fatto che eh il Milan ha quasi l'obbligo di arrivare al quarto posto anzi vorrei dire l'obbligo loro non lo dicono apertamente ma eh il motivo per il quale Elliot ha dato carta bianca anche a livello economico per poter gestire questo calciomercato e comprare i giocatori eh necessari al progetto eh senza porsi troppi problemi senza porre troppi veti come successo nelle passate sessioni è eh anche il motivo per il quale tutti sono consapevoli che il Milan deve debba raggiungere il quarto posto. Chiara che la concorrenza è è importante ma fa parte di un campionato che sta ritornando ai livelli eh di agrazione a parte dei tifosi non solo quelli italiani ma anche quelli esteri perché la competitività con la sfusura di un campionato a pochi punti dalla prima è ritornata ad essere alta la Juve eh è in un riciclo eh è un nuovo la creazione di un nuovo ciclo quindi si apre un un panorama diverso in questo panorama il Milan dovette avere continuità perché nel campionato italiano è la cosa più importante eh potrebbe infilarsi in questo quarto posto che farebbe permetterebbe alla società rossonera di fare quello step che ha del quale ha potuto godere l'Inter con le due qualificazioni eh all'ultimo minuto ottenute negli ultimi anni quelle della Champions League quindi mi auguro che che questo possa avvenire mi risulta che il mondo Milan si è concentrato sul quarto posto più di quanto dica in conferenza stampa. Andrea Sarone e Alessandro Coppone grazie. Grazie a voi. Ciao ciao. Togliamo i vestigli. Ciao ciao. Togliamo i vestigli. Grazie a voi. Ciao. Togliamo i vestigli. Grazie a voi. Grazie.